Musica Bene amici della corsa e del podismo, ben ritrovati. Oggi siamo di nuovo tra i monti, siamo venuti qua nella zona di Pontebba per parlarvi di una bella manifestazione che si tiene qui in Friuli, il Trofeo Gortani, che è un importante circuito di corsa in montagna che gli appassionati sicuramente conoscono bene. Un circuito che ormai siamo oltre la quarantesima edizione, quindi è ben rodato e ben conosciuto nell'ambito podistico. Siamo qua per presentare una delle prove, esattamente quella che si svolgerà il 23 luglio, qui sopra Pontebba siamo in Val Gleris e oggi siamo qua con Lorenzo Buzzi che ci aiuterà nella descrizione, nell'illustrare un pochettino la manifestazione. Dunque il Trofeo Gortani abbiamo detto oltre 40 edizioni, quindi un appuntamento importante per il montopodistico friulano, un trofeo che si svolge a tappe, diciamo subito, occupa tutta la stagione estiva, sono quasi sei mesi di prove. C'è solo la pausa nel mese di agosto perché come gli appassionati sanno nel mese di agosto ci sono tutte le stafette e le prove di alta quota, quindi c'è una pausa in quel mese lì, però comunque tiene occupati gli specialisti durante tutta l'estate. Trofeo Gortani, adesso magari Lorenzo ci aiuterà un po' anche a ricordare tanti nomi che tutto il mondo podistico conosce, il mondo friulano, possiamo citare Gino Caneva, Marino Jussig, poi vai avanti tu! Io conosco quelli recenti perché c'è Marco Primus che va forte ogni anno, c'è Gaetano Cimenti che nella sua categoria ha detta legge, Giobbata Romanin, poi insomma tutta la squadrone dell'Aldomoro che portano a casa sempre tantissimi punti. Sono gli specialisti, queste prove sono organizzate da queste società sportive che primeggiano in questa specialità, abbiamo citato l'Aldomoro e Paluzza, ma anche Timao Cleulis, poi il gruppo sportivo Alpine di Udine, Pulfero, poi il gruppo sportivo Valgleris in questo caso, poi aiutami ancora, Carni Atletica. L'Atletica Ermolli perché Moggio è la tappa dopo la nostra, fine mese, sì. Comunque dopo tre anni di silenzio, il Gortani torna a Pontebba e lo abbiamo voluto portare qui nella località di Aupa, nella Valgleris, intanto perché abbiamo questa bellissima casetta del fondo nuova e poi per cercare anche di far correre tutte le categorie giovani fuori strada. Il grosso problema delle gare del Gortani purtroppo è che tante volte i percorsi corti sono ricavati quasi interamente sull'asfalto, invece qui grazie a questi prati, grazie alla pista da fondo, siamo riusciti a ricavare tutti i percorsi quasi interamente fuori strada. Quindi tutti correranno lo stesso giorno, come avete visto insomma il territorio, come ha detto Lorenzo, ci illustrerà più nello specifico anche i percorsi, ha permesso di tracciare dei percorsi molto susterrato, possiamo già dire che si percorrerà la pista di fondo qua, della Valgreri, insomma gli appassionati dello sci di fondo, insomma i locali conoscono bene questa bellissima località, questa è una pista molto bella, sempre anche ben tenuta dobbiamo dire, quindi adesso per il Gortani ci sfrutta in parte anche questo percorso. Sì, abbiamo cercato di limitare al massimo le parti in asfalto e posso dire subito che tutti i percorsi corti, quindi l'800, 1000, 1500, 25, 35 saranno qui nei dintorni, partenza e arriva di tutte le categorie qui alla casa del fondo e in pratica i primi percorsi più corti, 800 e 1000 saranno interamente qui nel prato, i ragazzi andranno giù e poi gireranno intorno a quegli alberi e rientreranno alla casa del fondo dalla direzione della Val Gleris. I percorsi un po' più lunghi invece il 1500 e il 2005 scenderanno sempre in questa direzione però poi attraverseranno il fiume e si metteranno sulla pista da fondo. Il 2005 percorreranno la terribile, la famigerata salita dell'orso che i fondisti credo che conoscono bene e niente poi anche loro scenderanno e si rimetteranno sul rettilineo finale. Il 3500 metri ha ricavato facendo percorrere un giro del 1000 e un giro del 2500 in modo da… si devono diventare armati con le frecce, con le deviazioni ecco. E comunque anche quelli del 3500 avranno anche i primi 1000 qui nel prato, l'avranno abbastanza dura. Quindi insomma mi sembra di capire che sono dei bei tracciati, adesso magari ci spostiamo come nostro solito su qualche altro pezzo e vi illustreremo poi qualche altro pezzettino. Ci rivediamo fra qualche chilometro come diciamo sempre. Eccoci qua, siamo poco prima del chilometro e mezzo circa, così tanto per darvi un'idea. Il gruppo diciamo della corsa arriva da là, vedete? Cioè non vedete, ve lo dico io! Dietro di noi vedete subito l'attacco del sentiero. Qua adesso Lorenzo ci aiuta un attimino, ci dice un due dati, perché qui proprio inizia la parte tecnica come ci diceva adesso. Allora raccontaci un po' quali sono, come si usa a dire, i guai che iniziano da qua in poi. Esatto, qui si inizia a camminare, non i primissimi ma quasi tutti poi. Niente, dopo aver fatto percorso l'anello di 800 metri, quello più corto, sul prato, si imbocca la strada provinciale, si fanno 100 metri di asfalto e dopo aver attraversato parte del caseggiato di Aupa qua, si arriva in questo che è il primo punto saliente, la svolta e l'attacco del sentiero. Questa è la parte di percorso che è salita tecnica, quindi salita dura, salita sul sentiero stretto, tortuoso, trottorellante, si attraversa anche un pezzettino di ghiaione e questa salita ci porterà alla località di Glaciat Basso, che è una marga. Più o meno, diciamo come lunghezza, quanto sai dirmi già qualche... Ma i primi dovrebbero impiegarci sui nove minuti di parziale della salita. Sapete già, fate i conti, ma si vede, insomma, inizia con un bello strappetto, si passa tutto dentro il bosco, quindi? Quasi tutto dentro il bosco, poi c'è un punto in cui il bosco si apre e si vede anche un bel panorama. Non è tutta pendentissima, perché c'è anche un pezzo in cui la pendenza cala un pelo e praticamente si attraversa per poi riprendere e avere altri due o tre tornanti. Bene, adesso ci spostiamo e andiamo su un altro tratto. Bene, eccoci qua. Siamo arrivati nel punto più alto del percorso. Il sentiero, adesso mi sposto così lo vedete, sbuca dal bosco. Lì dietro siamo a quota 1130. Ecco, 1130. Allora, Lorenzo, raccontaci un po' qua cosa troviamo. Allora, sì, arriviamo a quota 1130 dopo uno strappo di circa 210 metri di dislivello dalla nostra tappa precedente. E diciamo che i primi, dopo aver percorso otto o nove minuti di salita, sbucano qui. Per le categorie femminili qui siamo più o meno a un terzo di gara, come chilometraggio. Per gli uomini, visto che il percorso è di nove, ce ne sarà ancora parecchio. E una volta arrivati dal bosco ci si lascia al prato e ci si immette sulla strada trattorabile forestale, sulla pista forestale che scende per un tratto di quasi un chilometro o poco meno su asfalto. Per poi risalire, su strada sterrata invece questa volta, fino a Sella Cereschiatis che è la prossima tappa. Dove ci fermeremo. Ci fermeremo, esatto. Sì, la discesa, adesso noi l'abbiamo fatta in macchina. Farla in discesa, come diceva Lorenzo, i piedi battono parecchio. Ci sono delle pendenze, dei tornanti. Sarà impegnativa anche questo pezzo qua, io penso. Cosa dici? Eh sì, questo è un pezzo che segherà le gambe a più di una persona, purtroppo. Sono una sequenza di cinque o sei tornanti su fondo asfaltato, molto pendenti, che portano giù fino al guado e che sì, sono impegnativi anche perché si arriva con le gambe stanche dal primo strappo. Chissà se qua qualcuno potrà tentare qualche attacco, cosa dici tu? Eh, chi va forte in discesa potrebbe recuperare qualche posizione qua, sì. Magari dal tratto in salita potrà riguadagnare. Sì, si amministra bene, si centellina un po' la salita, poi in discesa si riescono a guadagnare un po' di posizioni. Specialmente qui e nel tratto di discesa che descriverò in una delle prossime tappe. Bene, adesso andiamo alla prossima tappa, tra poco. Grazie a tutti. Eccoci, siamo qua a Sella Cereschiattis, la località. Avete visto il sentiero arriva in discesa lì, fa la curva e ritorna nel bosco. E adesso Lorenzo ci spiega tutto quanto. Ebbene, dopo 600 metri sull'asfalto in discesa con i tornanti che abbiamo detto prima e visto nel filmato, abbiamo un chilometro di nuovo in salita. Questa volta la salita è corribile, ci sono cambi di pendenza continui, ma la strada è larga e bella e la pendenza comunque non è eccessiva. Anche in questo tratto chi ne ha potrà mettere in cassaforte dei bei secondi. Potrebbe essere un tratto decisivo, chiamiamo così, per qualcuno. Per chi soffre un po' le pendenze eccessive e si trova invece più facilitato a correre dove la pendenza è più pianeggiante, qui può recuperare del tempo. Comunque si risale per circa un chilometro fino a Sella Cereschiatis, che è qui, a quota poco sopra 1000 metri. E qui, dopo questa bellissima curva di questo angolino di paradiso, ci si infila nel bosco e cominciano i guai. Nel senso che qui abbiamo la discesa tecnica. Da qui in poi i discesisti, quelli con le caviglie salde, hanno pane per i loro denti, perché il sentiero è stretto, è tortuoso, abbastanza pendente. Il fondo è buono, perché se con le scarpe cattive al punto giusto tengono bene, però è bello pendente. Comunque sarà un tratto molto impegnativo. Sì, e questo tratto con un paio di centinaia di metri di asfalto nella parte centrale ci riporterà nel caseggiato di Aupa, in cui per le signore saremo a due terzi di gara e per gli uomini saremo più o meno prima del ventesimo minuto. Bene, adesso ci spostiamo, torniamo in giù verso il caseggiato che ha detto Lorenzo, ci vediamo per il tratto finale, per la conclusione. A tra poco. Eccoci, siamo tornati sulla parte finale del percorso delle donne, diciamo così. Qua sono prossime all'arrivo. Il sentiero sbuca lì, scende da questo pendio che abbiamo noi di fronte, sbuca qua, passa davanti a questa chiesetta, poi ci sono un po' di gradini da scendere. E adesso Lorenzo ci spiega, continua un attimo nella descrizione. Dunque abbiamo detto che per le donne siamo prossime all'arrivo, per gli uomini siamo un po' prima della metà, diciamo, circa. Allora le donne hanno, credo, poco meno di un chilometro per finire, mentre gli uomini ne hanno ancora cinque. Qui finisce la parte, la prima discesa tecnica, finisce e dopo questa parte mista in cui si scollina, poi ci sono dei gradini, ci si mette su un piccolo tratto di asfalto e finalmente si imbocca la pista da fondo. Quindi la pista da fondo è un terreno sterrato, ma è largo e le pendenze comunque non sono eccessive. E sullo tratto della pista da fondo chi ha ancora energia e si trova bene sulle parti, diciamo, corribili può dire la sua. Anche le donne transiteranno proprio sulla stessa parte di percorso, solo che poi invece di scendere verso l'abitato di Studena Alta, nel prossimo punto che vedremo, transiteranno e andranno direttamente a traguardo concludendo la loro prova. Bene, allora adesso ci spostiamo per il prossimo punto. Ecco, siamo, come abbiamo detto prima, siamo sul tratto della pista di fondo, diciamo, del percorso. Allora, i maschili, ecco, gli uomini scendono da lì e anche le donne, no? E anche le donne. Ecco, maschi e femmine, diciamo, il percorso lungo, scendono da qua, le donne passano e arrivano direttamente al traguardo, che è posizionato lì, alla nostra sinistra, mentre gli uomini faranno la curva e faranno la salita dell'orso. Adesso sentiamo Lorenzo che è più specifico, ecco. Qui le donne hanno praticamente finito, per gli uomini siamo a metà gara, perché siamo poco oltre metà gara. Ecco, qui si ricomincia a salire, si ricomincia a salire su pista forestale, di nuovo pendenza media, nessuna difficoltà tecnica e si sale per un 4-500 metri fino a una baita e poi si imboccherà di nuovo discesa tecnica. Quindi c'è un secondo tratto di discesa tecnica, anche lì 300-400 metri, che ci porterà nel punto più basso del percorso. Bene, adesso ci spostiamo verso la parte proprio finale degli uomini, no? Così... Beh, adesso andiamo a vedere il punto più basso del percorso e poi abbiamo finito. Ecco, avete sentito, andiamo nel punto più basso e poi ci torneremo, diciamo, sulla riva anche della gara maschile. Ecco, ci siamo proprio sulla parte finale del percorso maschile, qua passano solamente gli uomini. Passeranno nel bosco, il sentiero passa in mezzo al bosco, no? Lorenzo, dopo tu entrerai più nello specifico, passa qua, attraversano la strada asfaltata, fanno un piccolo pezzo nel paese, diciamo, nelle case qua e poi si torneranno a portare verso l'arrivo, verso l'arrivo passando per una parte sempre nel sentiero, ho detto giusto? Sì, niente, quindi discesa tecnica come dicevamo prima, si arriva qui nel prato, si attraversa la strada, si fanno 300 metri sull'asfalto e poi di nuovo sentiero. Da qui fino all'arrivo, a parte un piccolissimo strappetto sulla pista da fondo, la pendenza è veramente lieve e tranquilla. Qui ci si riporta, è il punto più basso del percorso, è un transito tranquillissimo, nessuna difficoltà tecnica, esatto, solo tanta stanchezza immagino perché qui credo che siamo sul settimo chilometro e mezzo, ottavo. Ormai le difficoltà le abbiamo già passate, no? Esatto, esatto, sì. Il piccore ormai deve solo tener duro per arrivare al traguardo, come ha detto Lorenzo, ormai è finita. Bene, adesso ci riportiamo sull'arrivo per la conclusione, ecco, a tra poco. Bene, dopo tante salite, strappetti, discese, gobbette e quant'altro, finalmente siamo arrivati. Qua siamo sul traguardo, abbiamo visto prima l'ultimo pezzettino lì di sentierino, insomma, dove eravamo prima. La gara finisce, quindi ricordiamo 9 chilometri per la maschile, 5 per la femminile e poi i giovanili secondo le varie categorie che Lorenzo ha già detto prima. Per concludere cosa ci dici? Dai, concludi tu tirando le somme. È che il percorso è bello, è impegnativo, abbiamo cercato di metterci dentro di tutto, dal tecnico al corribile, all'asfalto, al fuoristrada e vi aspettiamo il più numerosi possibile, sabato 23, qui nella Val Gleris per la quinta tappa del Gortani 2011. Bene, ricordiamo, in pomeriggio si parte ore 15.30, quindi ricordatevelo, come ha detto Lorenzo, quinta tappa, poi ci sarà la pausa di agosto. Magari possiamo ricordare, Lorenzo tu che sei più esperto e afferrato, agosto come abbiamo detto prima, il mese delle staffette di alta quota. Magari ricorda un po' i nostri amici appassionati della corsa in montagna dove potranno trovare pane per i loro denti. Di sicuro c'è la staffetta del Montelussari, la staffetta delle vette della Vascletto e la tre rifugi a collina di Forni a Voltri. Poi l'ultima la Sky Race di Forni di sopra, no? Fine agosto. Di Forni di sopra, fine agosto, sì. Ecco, quindi se è agosto invece di andare in ferie, volete continuare ad allenarvi, a fare qualcosa, così sono dei belli appuntamenti classici, insomma, che qua in Friuli, insomma, tutto il mondo podistico conosce bene, merita anche chi non corre andare a farsi una gita, a fare il tifo, che sono bei posti, comunque. Bene, ringraziamo Lorenzo Buzzi del gruppo sportivo Valgleris che ci ha accompagnato sul percorso, insomma, speriamo di essere stati esaurienti nella descrizione, vi abbiamo mostrato, insomma, i punti più importanti, quelli più salienti, così, della manifestazione. Grazie a tutti, se avete visto questo video, insomma, grazie a tutti quanti, qua a Lorenzo e a tutti quelli che lavorano per questa bella manifestazione, ricordiamo quinta tappa del trofeo Gortani, speriamo di rivederci magari anche il prossimo anno, io come sempre vi lascio, augurandovi buoni allenamenti, sempre in salita, in questo caso, e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie, alla prossima, ciao! Grazie a tutti.